Siamo all'Istituto Comprensivo di Campomarino con Andrea Bradimarte, un'eccellenza dello sport e capitano della FlySport Molise. Andrea, com'è nata la tua passione per il basket? La mia passione per il basket è nata fin da piccolo, è uno sport che mi è sempre piaciuto vedere. Da un certo punto in poi della mia vita ho voluto iniziare anche a praticare, e così piano piano, piano piano, cercando persone per farlo e uscita fuori questa bellissima squadra che c'è adesso. Che consigli vorresti dare ai ragazzi e alle loro famiglie per intraprendere un percorso simile al tuo? Beh, il mio consiglio è di farlo, di cercare di intraprenderlo se si vuole, perché è un percorso, oltre che ti fa stare bene fisicamente, ti fa stare bene anche con la vita, ecco, ti migliora la vita senza dubbio. Pensi che lo sport possa aiutare un bambino e un adolescente ad avere relazioni migliori al di fuori del contesto familiare scolastico? Sì, assolutamente sì, uno dei motivi per cui si pratica uno sport come questo, uno sport squadra, ma anche singolo, perché per la fine sempre si sta in gruppo, è proprio per una maggiore socialità che viene fatta al di fuori dell'ambito che può essere scolastico.